Questo è l'ultimo brano che cantiamo solo noi ma ovviamente fermatevi perché dopo ci sarà un momento speciale per tutti quanti noi quindi rimanete fermi lì. Cantare e avere queste occasioni per condividere la passione della musica è una delle più grandi e importanti ragioni di vita. Trovarsi insieme, uscire, cantare, ascoltare cose speriamo belle ma comunque arricchienti per l'animo è veramente uno dei motivi che ci dà la spinta per affrontare la nostra vita, affrontare la nostra giornata e quindi vogliamo concludere con un inno Viva! Viva la vita! In tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfumature. Viva la vita! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti